abbiamo trovato i sotterranei abbiamo la parte più bella grazie ma non bello qua caputana l'arca troia qualcuno in che ho sentito subito un rumoraccio appena chiesa tira vediamo qua questa cella qua i documenti perché nascosti così questi perché nascosti così 92 87 76 questo era l'archivio così topi ci avevano già in vita che postaccio quasi sono cagati sotto non sono venuti ragazzini sono venuti a rubare il rame dei quadri qua ci sono tutti tutto ascensore amicizia affetto amore umiltà proprio qua sotto si questo cos'è minchia c'è un'altra scala per uscire stranissima se riusciamo forse come andare avanti sempre a me mi sembra anche chi sarei per me è la camera mortuaria può essere il disegnati i fiori vedi non è vanno a rispondere a tory qua un magazzino bancali spogliatoio il sito armaglietti spogliatoio del personale un bello no poi se vieni qua sotto a vivaccare che è buio perché ci abbiamo tutti i fari perché sennò è completamente ma poi c'hai tutti gli altri piani perché direi come si usava una volta sì ma senti che io sento anche con le mascherine mi sa che era questa sì 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 era questa qualche coglione è stato anche qua sì e me è venuto uno svarione qua te lo giuro è entrato però è proprio capato a vedere sì era questa c'è qualcuno qui? c'è qualcuno? se c'è qualcuno avvicinateli se c'è qualcuno si avvicini pure a noi a l'encer e basta che non prendete energia da me perché ho già avuto un capogiro appena scelto appena entrato prendetelo dagli strumenti o il faretto era 100% adesso c'è una tacca non ho qua sotto erano qui è pesante qua sì se c'è qualcuno qui che vuole avvicinarsi che vuole farci sapere che c'è anche solo con un rumore se qua è vero sì sì qua è vero mi piace neanche un po' no mi hai fatto proprio male le tempi davvero? sì ti giuro io dietro qua mi sento il coppino mamma mia che marciume mamma mia madò ma che muffe ci sono qua no no andiamoci da qua minchia anche con le mascherine ma qua guarda lì la ciabattone no no non ispiriamo sta merda no no comunque qua è il sessimo sì sì comunque è questa sì penso anche io penso anche io però è stranissimo perché è troppo piccolo questo sotterraneo per passare sotto tutto il blocco sì ne manca qualcosa sicuramente non è no però la tascaretta là sì quella uscita che abbiamo visto sì qua ce l'abbiamo visto quello poi questo è buono tutto il tuo totale proprio sì porta caldaia interna a uscita l'emergenza e dove usciamo lasciamo a non vedere da fuori anche questo ma sai tu che hai fatto sì senti che bagno no è brutto come il solito riuscite delle viette non lo saliamo non mi piace mi piace è venuto un botto alla testa magari anche manca l'aria si si me ne sto andando proprio vedi mi piace secondo me poi c'è una parte poi ce n'è ad essere un'altra parte di scartinati non mi capita mai ma non ci sto cercando l'uscita guarda ti portiamo il panto no no ho bisogno di aria bravo scusatemi ma la maccherina facciamo un giro esterno perché secondo me non mi è mai capitato ma non li abbiamo trovati tutti mi ha preso malissimo non è arrivato subito una legnata sempre più qua le tempie ma magari il cazzo i muffe con le mascherine che c'erano dentro è normale che avevamo le mascherine però però mi abbiamo fatto troppo poco di sottolineare ragazzi ci riprendiamo un secondo e poi continuiamo ragazzi siamo fuori e niente come è stata Raffi è stata impegnativa col finale un pochino pesante il finale mi sono sentito male e se ne voleva andare voleva solo uscire sono proprio scappato sono uscito proprio davanti di corsa per andarmene perché proprio mi sentivo male non mi aspettava neanche ho avuto questo mal di testa fortissimo eravamo nella camera mortuaria dell'ospedale ma proprio una tensione brutta un momento brutto che non mi è mai capitato sono voluto proprio uscire a prendere aria perché e sei ancora un po' scombussolo secondo me è come se qualcosa mi abbia tolto le energie mi abbia risucchiato proprio in un senso brutto e di spossatezza mai capitato anche perché prima era stato tutto ok abbiamo girato tantissimo sì sì sopra sì solo il sotterraneo è stato proprio va bene dai poi vedrete il video e alla prossima alla prossima spero che vi sia piaciuto se vi è piaciuto lasciate un like se non lasciate un dislike se non lasciate niente solo se vi piace da Lenci e da Rafi alla prossima ciao ciao ciao